A facilitare la vita nei mondi della percezione. A che cosa servono le pratiche meditative? Commento. Le pratiche meditative raramente promuovono uno scatto evolutivo. Tuttavia, se sono eseguite con tenacia, servono a organizzare meglio il corpo mentale, ad attingere i primi sottopiani della mente supernormale, a facilitare la vita nei mondi della percezione.